Ciao, benvenuti su KidZoneTV. Sei pronta a divertirti? Balla e canta insieme a noi. Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo la pasta di sale. Ciò che ci occorre è una ciotola, uno di farina, uno di acqua e uno di sale. Ovviamente se viene troppo molla, aggiungiamo un altro po' di farina. Se viene troppo dura, un altro po' di acqua. Mi raccomando, prendete anche qualcosa per mescolare. Cominciamo a prendere la ciotola e a versare uno di farina. Uno di sale E uno di acqua. E incominciamo a mescolare. Questo è il risultato e continuiamo a maneggiarla. Poi si può anticolorarla oppure lasciarla bianca. Si può colorare dopo averla fatto asciugare oppure prima. Io in questo caso la coloro adesso dividendola in tre pezzi. Io a quest'ora sto cominciando a mettere un po' di pittura qui e la comincio a spalmare. Ecco i nostri bonetti. Io ne ho fatto uno rosso, uno verde e uno giallo. Adesso facciamo le forme direttamente in un appoggio. Per coloro rossa, vi metto la stampita a forma di cuore. Tendiamo anche quella verde. E stavolta li mettiamo il po' di foglio. E stavolta li mettiamo il po' di foglio. E riparciamola per palla. Ecco fatto. Con questa pasta di sale, se volete, si può fare anche un po' di foglio per la festa del papà. Ciao!